Alberto, il nostro ospite c'è. Ah, questo mi fa molto piacere perché tra l'altro quello che stavamo dicendo si connette esattamente con questa città che è una città molto pirandelliana. Noi ne abbiamo parlato tante volte, guardo di fronte a me una biblioteca nella quale ho bellissimi libri che raccontano di Giancarlo Siani, di Dico Armando Maradona, ma anche dell'epidemia del Covid a Napoli, libri firmati da Repubblica Napoli e con noi oggi il direttore Ottavio Ragone, benvenuto a Radio Punto Zero. Benvenuto direttore. Benvenuto, mi sentite bene? Sì, sì, ti sentiamo bene. Parlavamo di una città, Ottavio, molto particolare per tanti versi, lo facevamo diciamo attraverso il calcio. Giovedì 28 gennaio in edicola Napoli e dintorni in tutta la campagna con Repubblica Napoli gratuitamente senza un euro in più rispetto al prezzo del quotidiano, si trova Napoli, Nessuna e Centomila, una città raccontata da 50 scrittori. Noi ti rubiamo un minuto e ti facciamo ascoltare una voce molto familiare di Podcast di Repubblica che ci introduce a questo libro. Io lo definirei un regalo imprevedibile. Napoli, Nessuna e Centomila è il volume che Repubblica regala ai propri lettori giovedì 28 gennaio, al prezzo ovviamente della sola copia cartacea, è un volume il cui valore sta non solo nella pluralità delle voci, 50 firme della scena nazionale e internazionale, davvero un insieme inedito, assolutamente non visto, ma nello stesso tempo sta nella verità, negli squarci di racconti personali, testimonianze, sfoghi. Non solo amore si percepisce verso la città, qualunque sia la provenienza dell'autore, può essere napoletano e famoso, può essere un giovane letterato asiatico che sta per pubblicare in Italia, ma la verità è che nessuno riesce a imprigionarla e tutti partendo da questo presupposto di grande rispetto e anche di distanza che a volte serve a guardare meglio, riescono a regalarci un pezzo che magari non avevamo visto o invece un segmento che abbiamo vissuto e nel quale ci riconosciamo profondamente, pur da storie così diverse, pur da vite così diverse. Napoli, nessuna e centomila è soprattutto la volontà di ritornare a un respiro europeo sulla città, una metropoli capitale culturale che non ha mai smesso di ispirare i più grandi, dalla letteratura al cinema, al teatro, eppure nello stesso tempo talvolta patisce delle rappresentazioni un po' settarie, nel bene e nel male, anche quella retorica dalla quale rischia di essere e di uscire soffocata. Ebbene questa capacità noi abbiamo voluto, diciamo, ispirarla, farla discendere da un grandissimo libro che secondo noi merita di essere riscoperto e offerto ai giovani, che è da Napolis, che fu firmato 33 anni fa dalla bravissima scrittrice Fabrizia Ramondino, davvero una scrittrice internazionale che aveva girato il mondo, aveva portato la sua ricchezza intellettuale, la sua sensibilità nel racconto di Napoli. Lo firmò insieme a Andreas Müller, che Repubblica ha rintracciato, che ha fatto, diciamo, tornare per un attimo ai suoi lettori, grazie appunto a questa iniziativa. E da Napolis è davvero un segno, un omaggio, che ci ha spinti Ottavio Ragone e me, senza ovviamente alcuna ambizione emulativa ci mancherebbe, ma con la volontà di stare nel solco di quella Napoli, che si è sempre aperta a livello internazionale e ha saputo essere profondamente capace di diventare porta, filtro e sguardo sull'umanità, senza definizioni, senza latitudini. Ecco, io penso, e lo dico agli amici di Radio Punto Zero, che per questo meriti di essere attraversato questo libro. Sono certa che vi rimarrà nel cuore. Roberto. Allora Ottavio, una bella sorpresa, la voce ovviamente di Concita Sannino, che con te ha curato questa bella iniziativa, che ha anche una genesi letteraria di alto livello. Raccontaci un po'. Sì, in effetti il libro, diciamo, l'ispirazione del libro, che ovviamente non ha nessuna pretesa di emulazione, ma sicuramente si ispira a un libro, uscito 33 anni fa, fu pubblicato da Enaudi, il libro si chiama Dadapolis, e gli autori erano Fabrizia Ramondino, una scrittrice di assoluto talento e valore, scomparsa precocemente nel 2008, e un docente di tedesco all'Istituto Universitario Orientale, che si chiama Andreas Friedrich Müller, che attualmente è tornato in Germania e vive nella sua Berlino, con il quale noi abbiamo parlato. Allora, questo libro Dadapolis, che molti di voi ricorderanno, ebbe un enorme successo, ed era un collage di brani di tanti autori e osservatori italiani e stranieri, che nel corso dei secoli avevano parlato di Napoli, avevano descritto Napoli. Parliamo degli scrittori, di grandi scrittori della letteratura di ogni epoca, ma anche di osservatori, di semplici viaggiatori, e i brani di questi scrittori e autori venivano raggruppati in maniera tematica e in breve, in modo da costruire un caleidoscopio di pensieri e di osservazioni su Napoli interessantissimo e molto piacevole da leggere. Allora, a questo libro noi ci siamo ispirati, poi ne abbiamo parlato anche con lo stesso Andreas, che abbiamo sentito più volte in Germania, e che poi abbiamo intervistato e compare nell'articolo, nel testo introduttivo che abbiamo scritto con Cita e Dio, e poi ovviamente abbiamo organizzato una struttura completamente diversa. Tutti gli autori che intervengono, che sono scrittori, ma anche saggisti, poeti, moltissimi italiani, i più importanti, ma anche molti stranieri, sono tutti autori contemporanei, quindi non del passato, e il libro è una struttura quasi antologica, cioè ciascuno scrive il suo racconto e la sua poesia che vengono affiancati. Però l'idea di fondo è la stessa, quella del caleidoscopio, cioè di osservare la città con occhi interni, ma anche esterni, molto freddi, molto sinceri, ma anche appassionati, che aiutino appunto la città a riflettere su se stesse. In questo senso noi ci siamo ispirati a Dadapolis, ma come dicevo all'inizio non abbiamo alcuna pretesa emulativa rispetto a quell'opera, abbiamo cercato di mettere insieme un testo di 240 pagine che abbia però un preciso profilo culturale e letterario, merito ovviamente degli autori che ci scrivono, e soprattutto un testo che abbiamo poi dedicato a Fabrizia Ramondino, per la quale noi proponiamo che la Mondadori attraverso i meridiani dedichi appunto un meridiano che sono quei testi come sapete che vengono come no? dedicati ai più grandi scrittori italiani e stranieri e secondo noi Fabrizia Ramondino lo merita assolutamente e va assolutamente riscoperta come autrice di origine napoletana ma assolutamente cosmopolita con uno sguardo probabilmente la più cosmopolita degli scrittori contemporanei nati a Napoli con uno sguardo aperto sul mondo, libero, originale, fresco, una scrittura molto densa e diciamo di grande forza e di grande incisività e lo merita assolutamente uno dei grandi scrittori delle più grandi scrittrici italiane e quindi noi Bella idea tra l'altro permettimi di come dire ricordare anche l'editore di queste bellissime vostre iniziative Diego Guida perché tenendoli in mano questi vostri libri peraltro corposi come tu raccontavi non sembrano i classici libelli che vengono fatti con i giornali c'è stato un periodo in cui proliferavano e soprattutto in questo periodo di lockdown parziale o totale che sia si sono rivelati importanti poi nel salutarti voglio ricordare qualche nome però noi siamo come dire una trasmissione di informazione calcistica pensando al caleidoscopio napoletano che era appunto il sottotitolo di Dadapolis che credo ritroveremo con le tantissime firme variegate ma penso anche a Peppe in anticipo qualche nome Peppe Lanzetta Roberto Andò Ruggero Cappuccio per fare dei nomi Enzo Moscato che vengono anche dal teatro e fanno capire quanto troveremo in queste in queste in queste eh beh sì poi scusami Roberto ti interrompi De Giovanni Maurizio De Giovanni Roberto Saviano Viola Ardone Valeria Pardella Lorenzo Marone Antonella Cilento appunto Peppe Lanzetta Maglio Santanelli che è un grandissimo drammaturgo che insomma noi abbiamo che ci regala appunto un racconto poi tantissimi autori anche stranieri sarebbe impossibile avevo citato qualcuno di quelli che venivano dal teatro ma ci sono abbiamo Scurati Siti Barminio c'è il nostro permettimi di dire il nostro Mariponiola c'è Germin Fano insomma c'è 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 per tutti i gusti e questo credo che sia importante invece ti volevo fuori Cosa Stun anche Donald Sassun insomma è veramente scusami la cosa importante che tu dicevi prima è vero non sono i libri fatti così per essere insomma pubblicati così sono libri fatti con molta cura e attenzione del tutto gratuitamente ciascun autore scrive gratuitamente ci ha ci ha regalato un testo questo è importante dirlo il nostro è un lavoro gratuito che noi facciamo con passione e con amore e perché diciamo abbiamo la velleità forse di creare anche una comunità culturale di riferimento che esca fuori dalle solite polemiche che spesso incrociano questa città rivalità eccetera eccetera e che invece crei un dibattito e una discussione su temi alti approfonditi che veramente possono far riflettere e arricchire la città questa è la nostra ambizione allora sono contento perché come dire la radio ci impone la chiusura di questo primo blocco alle 14.15 abbiamo detto tantissimo sul libro ma siccome ci incuriosisce farti una serie anche di altre domande sulla città qualcosina anche sullo sport allora ci permettiamo di reinvitarti magari la settimana prossima insomma nel corso dei prossimi giorni alla vigilia magari anche dell'uscita del libro che voglio ricordare è il 28 gennaio per parlare con Ottavio Ragone direttore di Repubblica Napoli anche di Napoli Nessuna e Centomila grazie per essere stato con noi a Radio Punto Zero grazie direttore alla prossima grazie a tutti voi grazie buon lavoro